Buongiorno, grazie per essere intervenuti a questo incontro che vede protagonisti, si hai ragione, quattro scrittori critici, è difficile dare una veste alla qualità letteraria rispettiva di questi autori qui al tavolo, proveremo a farlo oggi indagando un aspetto della loro produzione che è molto particolare e che è un tema, direi, cruciale della letteratura, che è il racconto, la percezione, la descrizione del luogo e attraverso una serie di meccanismi che sono o possono essere la riminiscenza, la memoria, l'identificazione, la repulsione, l'analisi diversa o persino la fantasia. Li presento dalla mia sinistra Massimo Noffri, Giorgio Ficara, Alberto Manguel e Silvio Perrella. La cosa che li accomuna poi dal mio punto di vista è che sono tutti dei finissimi critici letterari, tutti dei finissimi lettori altrui e in questi libri che andiamo a presentare, di quali andiamo a parlare, l'eco e il ricordo, la memoria dei testi che hanno letto, conosciuto e sondato di altri autori torna prepotentemente. Probabilmente perché la letteratura è forse uno dei modi di conoscere un luogo più sottile, più profondo, addirittura più vero, metto questa parola tra virgolette, anche quando a quel luogo non si appartiene più di tanto. Direi che qui, e partirei con Massimo Noffri, visto che avrei servito questo assist a lui, che ha appena pubblicato questo passaggio in Sardegna per l'editore Giunti, ed è un libro nel quale, dicevo appunto, che a volte si racconta in maniera più vera anche un luogo al quale non si appartiene per provenienza geografica, ma lo si acquisisce e lo si racconta con un altro punto di vista che a un certo punto inevitabilmente diventa il proprio. Allora a ciascuno di voi chiederei di raccontare come si racconta un luogo in letteratura, come lo si vede, come lo si filtra. Partiamo da Massimo. Buongiorno a tutti. Io faccio un monito a me stesso, essendo incontinente, quindi un po' di domande, tutte molto veloci nella risposta, perché siamo quattro, giusto? Lo dico soprattutto a me, perché tra questi quattro sono sicuramente il figgiore, diciamo, il più sregolato. Ma ti regolerò io. Perfetto. Allora, tu dici raccontare un luogo. Prima che un luogo, questo libro nasce da una riflessione, tanto dovevo fare altri libri, ho fatto prima questo, perché nasce da una necessità. Cioè io sono in Sardegna dal 2001, dove insegno a lettura italiana contemporanea all'Università di Sassari, vicissitudini della mia vita dolorose, una separazione, una figlia molto lontana, una vita in Sardegna che io chiamo la slow life, cioè un tentativo di salvarmi attraverso la Sardegna. Tu sei sardo, la conosci bene, sei un sardo di quelli che è andato via, non so se posso dire scappato o è andato via, poi ce lo dirai tu con la domanda che ti faccio a te. Io invece sono approdato lì, mi sono poi trasferito da Alghero perché svegliarsi la mattina alle 11, quando io vado a letta alle 4 dopo il mio Toscano, diciamo così, è comunque una meraviglia in qualsiasi momento dell'anno. A un certo punto mi sono fatto una domanda rapida, ma dico ma io sono venuto qua e ci sono venuto con lo stesso spirito con cui Publio Video Nasone era stato mandato in esilio sul Mar Nero nel 2001, diciamo così. E invece ho detto ma in realtà, diciamo così, io avrei dovuto capire che questa era una fortuna e un invito degli dei minori perché io mi sono ricordato, e così inizia il libro, che in Sardegna, al campeggio Calic, non so se lo conosci Stefano, a Fertiglia, diciamo così, città del Duce, eccetera, avevo perso tardivamente a 17 anni la virginità, con una, diciamo... Ho messo una lapide, però no? Sì, no, ho messo una lapide, ma quindi ero stato iniziato la vita adulta in un'altra Italia, nel senso che, a un certo punto io ero 17enne, questa brutta donna, diciamo, di 29 anni di democrazia proletaria, che era, diciamo, ossessionata la mattina dal marito, discutevano non del fatto che lei lo tradisse e basta, erano tempi d'amore libero, c'è accidenti, non che lo tradisse con un minorenne, ma che lo tradiva con un socialista. Ecco, mi è venuta, diciamo, in mente tutta quella Italia e quindi ho trovato la chiave comica, caro Stefano, perché io credo che qualsiasi narrazione, in Italia non abbiamo narrazioni, diciamo così, dentro una grande tradizione, perché nel romanzo si tentano le temperature alte, il romanzo c'è, deve avere temperature medie, se no a un certo punto abbiamo i falsi romanzi, i falsi scrittori che li ricizzano, metti appunto scrittori e prosatori, diciamo, l'Italia è piena purtroppo di Henry De Luca, piuttosto che di altri tipi di scrittore. Allora, in questo senso, io ho trovato la chiave comica per poter essere anche in altri momenti lirico, poter parlare del cielo, dell'asinello cieco e albino, dell'asinara, che è la creatura leopardiana per eccellenza. Immaginate, chiudo qua, quindi un certo risposto, quindi cercavo risposte, ero io l'asinello albino, cieco, straziato, che cercava una risposta a tutta una serie di dolorose di questa questione della vita, ecco, l'asinello albino, bellissimo asinello, tozzo, tronco largo, gamma, eccetera, vive, è autoctono di un'isola dove non ci sono alberi. E dove sono successe, essendo un paradiso assoluto, alcune delle cose più atroci del Novecento, io le racconto per esempio la morte di decine di migliaia di soldati austro-ungarici perché hanno mangiato l'euforbia, che non mangiano nemmeno le caprette selvatiche che hanno brugato tutto, tranne l'euforbia. Quindi l'asinello albino è una creatura leopardiana in natura, cioè vive in un posto, lui che è fotofobico, anemico, in un posto dove il sole si glorifica e distrugge. Ed è il simbolo del fatto che la vita ci lusinga, ci illude e in realtà ci strazia. Quello è il motto araldico del mio libro, la vita è tutto ciò che noi abbiamo, ma è anche tutto ciò che dobbiamo patire. Sono stato bravo? Ho parlato troppo, mi sa' vero? No, sei stato molto bravo. Bravo come tempi, eh, bravo come tempi. No, no, sei stato anche addirittura troppo bravo, infatti... Grazie, no, il personaggio del libro, che è migliore di me, che sono io, è anche molto narcisista e vanitoso, quindi voglio dire questa cosa. Grazie dell'applauso, perché di prima mattina... Te lo sei meritato perché diversamente le tue abitudini hai parlato in maniera molto succinta, però visto che lo hai fatto ti punisco facendoti subito una seconda domanda perché nel tuo libro più volte tu dici di essere un etrusco immaginario e però scatta anche un'identificazione con quest'isola dalla quale senti di avere comunque delle affinità da tempi precedenti il tuo passaggio. Questa è una bellissima domanda perché non avrei usato a parlare di questo e lo faccio subito. Allora, tu, giustamente, vedo che l'hai letto con attenzione il libro, Stefano, è una parte che riguarda i giganti di Cabras. Ora io, ci sono magari quattro pagine del ristorante Loro Manì sul raviolo di Ovadda, io non so niente di gastronomia, parlo molto di ristoranti, però siccome sono uno che studia, la critica ci è abituata a questo, ho studiato anche tutti gli ingredienti. Voi trovate quattro pagine di ingredienti e a un certo punto sembra uno che ne sa più di uno che fa le... Non è così, non ne so niente, però gusto il raviolo, studio e quindi restituisco e ti sto rispondendo, un pochino giurando, e dico, lì ho scoperto la grandezza dello stufato di pecora e del cappone inumido, che erano due cose che io non sopportavo. Perché ti dico questo? Perché i giganti di Cabras, io ogni tanto mi occupo di critiche d'arte da direttante, sai che ho fatto un libro su Pellizzata Volpedo, ma molto anomalo, l'ho dovuto raccontare perché sono un'esperienza incredibile questi giganti, che tra l'altro cambiano completamente l'adattazione, perché sarebbero i primi rappresentanti della statuaria mediterranea e quindi cambierebbe tutto l'asse della storia della scultura, diciamo, primordiale. Ma perché io l'ho raccontato? Qual è la verità vera? Perché questo libro è anche un libro d'amore, di resa dei conti con lo stilismo patologico. C'è una inni misteriosa, non potevo nominarla per nome e cognome, che io vedo appunto dopo aver nel prologo fatto mente locale su perché stavo in Sardegna e la vedo e si alzano le acque, ovviamente del tutto delirante, ma siccome ho poco prima parlato di un cinese, di Alghero, che mi aveva venduto la sdraietta e mi aveva detto che il problema di Alghero sono i cinesi, ecco, questo, diciamo, dei cinesi e dello stilismo patologico reggono solo perché sono... Allora, perché io ho parlato di giganti di Cabras? Perché per la datazione di questa statuaria, diciamo, gigantistica, c'è un calzare di una principessa nuragica sepolta a vulci, io sono un etrusco estinto più che immaginario, etrusco estinto, e, diciamo, questo calzare, diciamo, della principessa nuragica che è lì sepolta perché ha sposato questo principe etrusco. E quindi, allora, lì, dentro, nel cuore di questa analisi dei giganti che è tecnicamente attrezzata, benché narrata, perché il libro, come visto, è narrato, non ci sono tecnicismi, io appunto sogno, sono io, ecco, quel principe etrusco che è andato, diciamo, in Sardegna e ha portato via questa meravigliosa principessa nuragica, perché è una donna bellissima, questa Ini, è l'unica vera, vera, anche se non si può nominare, e quindi l'ho portata con me e, alla fine, questa gioiosa sepoltura nella tomba di Vulci etrusca. Quindi, capisci perché ho raccontato i giganti? Grazie. Ecco, una cosa che chiederei a Giorgio Ficara. Giorgio Ficara, oltre ad essere un fine critico letterario, è anche un critico letterario di quelli non facili, perché nei suoi libri, io lo uso come complimento, perché nei suoi libri bisogna veramente impegnarsi, entrare dentro i testi che sta descrivendo, parlo di libri molto belli da montare, allo stile 900, eccetera, in questo libro, che io ho amato tantissimo, è l'unico che non ha un libro uscito in questi giorni, perché è uscito 4-5 anni fa, dicevamo, Ed è un libro che sta a metà tra la memoria e l'autobiografia e la spiegazione di questa memoria e autobiografia attraverso la letteratura. Un libro che si chiama Riviera ed è un libro veramente strano, molto laterale rispetto alla tua produzione. Allora vorrei che tu ci raccontassi come è venuto fuori, intanto, questo libro, come ti è venuto fuori e poi perché hai scelto di narrare quella, neanche tutta la Liguria, ma una parte di Liguria, sempre e solo filtrandola attraverso due cose che sono fondanti per ciascuno di noi, l'esperienza diretta e la letteratura. Grazie tanto della domanda. Ma insomma, sì, tu hai ragione, io faccio il critico soprattutto, sono un saggista, mi sono però sempre chiesto, come Massimo, come Silvio, insomma, come tutti forse, che cosa il romanzo, la narrativa, questo incubo che ormai ci circonda, perché tutti raccontano, il narrativo puro è diventata quasi una specie di chiave di volta, non più per capire, ma quasi per non capire, per allontanarsi dalla comprensione. Questo è quello che succede ormai nel romanzo contemporaneo, naturalmente con molte eccezioni, se Dio vuole, ma insomma sta diventando un po' così. Allora, diciamo che questo libro, che ha una ragione, come diceva Stefano, molto forte, molto sentimentale, nel senso che io sono legato a questo luogo, come tutti siamo legati a un luogo, ma mi interrogavo, primo, se sia lecito essere legati a un luogo, se queste radici abbiano un senso, ancora oggi, eccetera, eccetera, oppure se questo particolare tipo di attaccamento, di esplorazione o di curiosità nei confronti di un luogo, non sottintenda invece un bisogno più largo, diciamo, di verità, che per certi aspetti il romanzo oggi disattende. Noi siamo abituati a pensare che il romanzo invece debba rispondere a un bisogno di verità, di conoscenza, di realtà, non soltanto di fiction, di allontanamento, di divertissement, di divertimento, di distrazione dalla realtà, ma anzi un bisogno di radicamento nella realtà. Oggi, secondo me, il romanzo sempre meno, in qualche modo, obbedisce a questa regola, sempre più ha a che fare con un mondo derealizzato e non lo esplora criticamente, non gli dà un contenuto, non esercita un'ermeneutica, insomma. Allora, il luogo era anche un pretesto, come dire, per stare più attaccati alla realtà, per dire qualcosa di più di questa realtà. Naturalmente il luogo, per me, è anche una questione emotiva, è anche una questione sentimentale, come dicevo prima. Questo luogo in particolare, che si chiama Riviera, che è uno dei luoghi più usurati del mondo, più disastrati dell'universo, nel senso che è stato cementificato, mia madre, mio nonno, mio bisnonno, sono di Rappallo, che era uno dei posti più belli dell'universo, adesso uno dei, insomma, forse non dei più belli, è stato rappallizzato, peraltro, è stato rappallizzato, cioè è venuta fuori una parola che si chiama rappallizzazione, curioso, che per un sindaco, dopo tanti anni, che Montale usava, con molta ironia naturalmente, e finalmente poi è un po' caduto dall'uso questo termine, non si usava più. Un sindaco cretino, un giorno, si sveglia, dice, fa una battaglia contro il Devotoli, perché dice, bisogna abolire dal vocabolario questa parola rappallizzare. In quel momento, il Devotoli stava rifacendo l'edizione del vocabolario, l'hanno rimessa per l'intervento di questo... Perché l'ha usata. Perché l'ha usata questo sindaco, eccetera. Quindi, no, questo per dire che, insomma, è stata anche un po' una provocazione, perché in qualche modo, raccontare un luogo che si è estinto, diciamo, abbastanza sulle sue ceneri, era una provocazione, o per me è stata una provocazione. Allora, che cosa significa? Che cosa è significato? E' significato, in fondo, fare una scommessa nei confronti della realtà, come dicevo prima, e in favore della relazione, in favore dell'esplorazione di un dato, anche quando, come dire, tutta la filosofia contemporanea, tutta la sociologia, soprattutto contemporanea, pensate a Marco G, ci dicono che i luoghi non esistono più, no? Non lieux, l'impossible voyage, eccetera, tutta questa recitazione di niente, niente, niente luoghi da cui siamo circondati. Temo, penso, spero che non sia vero. Allora, questo libro è anche un po' una risposta, è anche un po' una polemica nei confronti di questa bassa filosofia, che poi è sociologia, sostanzialmente, di questi ogè e compagni, che ci dicono che tutto è uguale, che tutto è omologato, saliamo su un aeroplano, in un aeroporto, scendiamo dopo 12 ore di volo e scendiamo in un aeroporto uguale, ma questo lo sappiamo. L'importante è, come diceva il vecchio Italo Calvino, attrezzare lo sguardo per vedere che cosa, in quel luogo, che sembra uguale, non è uguale. Allora, questa cosa che non è uguale, nella mia riviera, erano tutta una serie di cose. Ecco, ve ne dico una perché non c'è tempo. La questione identitaria, ecco perché mi piace abbastanza la riviera, mi piace ancora adesso perché la mentalità del Ligure è una mentalità non radicata, come dire, che fonda la sua appartenenza in una disponibilità verso l'ignoto, verso il mondo in sé, verso il partire. Un Ligure che parte è anche sempre un po' un uomo che si mette a disposizione, che si affida, che quindi in qualche modo recita una sua preghiera nel mondo e nello stesso tempo va per affari, per commercio, eccetera, eccetera. Quindi un mondo nello stesso tempo è un uomo, nello stesso tempo pratico è astratto, è un uomo legato alle sue radici ma totalmente libero da esse. Ecco perché questa riviera, per esempio, mi piaceva. Ecco perché il Ligure è disponibile, è viaggiatore, è già fuori di sé nel momento in cui dice io. Ma mi fermo qui. Sì, queste cose che hai detto, Giorgio, sono per me particolarmente stimolanti perché in Sardegna invece abbiamo proprio un problema esattamente opposto che è quello di radicarsi all'interno di un territorio ben preciso anche visto che è un'isola quindi è molto più facile che scatti questa cosa qua. La disponibilità verso l'altro è una cosa che si conquista e anche con fatica. Però siccome hai detto io, vorrei chiederti di raccontare e l'episodio e il senso che tu dai a un episodio molto bello, molto significativo del tuo libro e cioè di quando il doge non mi ricordo più forse il doge imperiale ironia della sorte mi pare che avesse questo nome va a rendere omaggio al re sole credo a Parigi o comunque alla regia di Versailles e dà una risposta fulminante. Vorrei che la raccontassi in un flash. Grazie intanto di ricordarti questo episodio perché devo dire anche un episodio che a me ha colpito moltissimo perché è esattamente legato a questo problema dell'io, dell'identità, di chi sia questo Ligure in qualche modo che è forse uno degli uomini più snob, uno dei personaggi più snob del mondo in qualche modo. la storiella è questa ma non è la storiella è vero questo doge Franco Maria Imperiale 1684 i francesi hanno occupato Genova hanno sconfitto gli spagnoli lui deve andare come doge a fare omaggio al re di Francia e malgrè lui ci va non ne ha nessuna voglia ma ci va tenete conto che lui ha le pareti ai Van Dijk ai Rembrandt eccetera cioè è un uomo di una ricchezza straordinaria di un gusto strepitoso che va a Versailles va a Versailles e viene naturalmente gli viene fatto percorrere tutti i giardini dell'Enotre eccetera eccetera poi va e da una sala all'altra all'altra 15 sale 30 sale finalmente si trova nella sala davanti al re che gli fa chiedere ma doge dice che cosa che cosa vi ha colpito di più di tutta questa immensa reggia e lui risponde in dialetto ligure pur sapendo benissimo il francese risponde mi chi cioè moi ici ecco la cosa che lo colpisce di più è essere lui a Versailles non gliene importa assolutamente niente la cosa che più lo sconcerta essere andato là e aver capito che rispetto a un suo palazzo genovese Versailles è quasi niente e poi se ne va dopo questa risposta che fa il giro di tutte le corti d'Europa naturalmente nessuno la capisce bene perché potrebbe essere offensiva potrebbe essere troppo ironica potrebbe essere un po' bet anche contiene tutti questi elementi contiene anche forse un'ingenuità finta dissimulata eccetera ma questo è anche un po' il libro è quello che non si stupisce ecco invece di stupefazioni di stupimenti parlerei per i tanti libri di Alberto Manguel forse lo scrittore che più è noto tra questi quattro al tavolo anche per averci dato una serie di affreschi sul mondo del libro e della lettura che per chi come me fa questo mestiere ed è poi un bibliofilo incallito e addirittura un po' malato diventano dei testi di riferimento diciamo pure così e però ad Alberto Manguel vorrei spostare l'attenzione su solo uno dei suoi libri che è questo dizionario dei luoghi fantastici che lui aveva compilato anni fa ha avuto diverse fortune editoriali questo libro ed è un libro nel quale vengono radunati tutti quei luoghi che sono teatro di letteratura ovviamente ci sono tutti quelli che stanno nella letteratura ma a volte ci sono anche quelli veri che stanno però raccontati e che quindi creano un doppio un doppio non voglio dire un doppio scatto ma un doppio legame tra lettore autore e narratore a Manguel chiedo di raccontarci quanto sono reali i luoghi fantastici e quanto sono fantastici i luoghi reali grazie questo libro io l'ho scritto con Gianni Guadalupi avevamo in quel momento venti anni lui uno due di più e dunque avevamo l'energia della gioventù per leggere due tre mille libri che raccontano i luoghi fantastici stavamo lavorando da Franco Maria Ricci a Milano e un giorno Gianni è venuto e mi ha detto che stava leggendo un romanzo fantastico di Paul Feval la ville vampire e che sarebbe divertente di fare in qualche modo una guide ble della ville vampire e abbiamo cominciato a scrivere questa guida dicendo come si arrivava dove si mangiava dove dove si doveva dormire e non dormire e dopo ci siamo detto ma perché fermarsi a una sola città perché non cercare di altre città e più di altri paesi e così abbiamo lavorato due anni sopra questo libro facendo cose che io non potrei fare adesso come calcolare la distanza tra la città dei romani in Africa e l'Atlantico quando si sapeva che per Tarzan Tarzan aveva fatto la traversia in canoe e quanti chilometri un uomo forte può fare e calcolare questo per fare le carte dunque abbiamo lavorato due anni abbiamo fatto questo libro che ha piaciuto ma dopo ci siamo renduti conti che infatti questi luoghi fantastici immaginari non erano meno immaginari che i luoghi che chiamiamo veri voglio dire Giorgia ha detto che noi siamo tutti attaccati a un luogo ma questo luogo a cui siamo attaccati è un luogo che è costruito nella nostra immaginazione è un luogo che è creato da quello che pensiamo ricordare di una falsa nostalgia di un desiderio voglio dire per esempio Firenze esisteva certamente prima da Dante ma è solo dopo l'esilio di Dante che Dante comincia a immaginare questa Firenze come un amore che l'ha rifiutato e che lui continua a amare e costruisce questa città che oggi chiamiamo Firenze e riconosco io come lettore molto di più Firenze in il libro di Dante che in le strade piena di turisti dunque parlare di luoghi immaginari e parlare semplicemente della geografia del mondo Borges ha scritto una piccola favola dell'imperio dei cartografi e dunque in questo imperio i cartografi volevano fare di carte di più in più precise e dunque più grande e finalmente avevano fatto una carta che coincideva perfettamente con l'imperio stesso e Borges dice che in il limite dell'imperio ci sono ruine che rimangono di questa carta perché la vera carta del mondo è il mondo stesso ecco il racconto no ma il racconto che ha fatto adesso Manguel che è un racconto di Borges che si intitola la mappa dell'impero e narra esattamente di questa ossessione della precisione del cartografo del descrivere addirittura in scala uno a uno il territorio e anche l'ossessione dello scrittore quando quando cerca di descrivere un luogo questo quello dell'approssimarsi alla precisione più possibile e poi arrendersi all'evidenza che non si può essere così preciso forse il metodo di uno scrittore è altro di un Deacon sopra Londra di un Victor Hugo sopra Parigi di un Pirandello la Sicilia sono dei luoghi che non vogliono essere veri ma invece veri all'immaginazione dello scrittore Borges ancora perché sto sempre citando a Borges Borges voleva scrivere sopra Buenos Aires e lui ha detto che l'unica volta che veramente senteva che l'aveva riuscito quando ha scritto un racconto che si chiama La muerte e la brujula e la brujula e che in questo conto aveva scritto Buenos Aires sotto il pseudonimo di una città francese e che gli amici gli hanno detto questa volta veramente ha scritto ha descritto Buenos Aires testo mi sembra un ottimo apologo e la sfida che però forse ha raccolto Silvio Perrella nel suo libro Doppio Scatto invece è stata dentro il segno opposto non lo so poi adesso magari tu ci racconti come l'hai interpretata ma questo libro è una serie di scatti che lui ha fatto di Napoli che non hanno diciamo così il pregio della bella fotografia anzi se ne fregano apertamente ma semplicemente grazie a quelle fotografie grazie a quella particolare visione Perrella descrive che cosa c'è che cosa ci dice e molto spesso sono delle cose minime delle foglioline che nascono su un muro una finestra delle capote una tendina che viene annodata e anche qui ti chiederei come hai raccordato questa oggettività che obiettivamente dà la foto al racconto allo scatto verbale che è l'altra parte della tua operazione su un'altra No, lo tengo così dai Beh, come avete capito questo è un libro fatto di fotografie scattate da un non fotografo che come i viaggiatori del passato i viaggiatori del passato come sapete prendevano appunti disegnando e adesso avendo a disposizione delle macchinette digitali ecco io ho pensato di prendere appunti sono un camminatore sono uno che va dentro le città non solo non solo non solo Napoli Napoli è la città nella quale vivo pur non essendo cinato quindi ci vado con almeno un millimetro di estraneità continuo e quindi ho cominciato a prendere degli appunti andando perché c'erano dei frammenti delle visioni a volte a volte io mi chiedo se qualcuna di quella fotografia saprei ritrovare il luogo dove l'ho fatto cioè oramai quelle fotografie sono quasi più reali della realtà in certi casi perché non sarei in grado nelle strutture labirintiche delle immaginazioni che la città fornisce di risalire al luogo in cui sono state scattate il metodo che ho usato è stato quello di poi dimenticare queste fotografie quindi lasciarle lasciare il tempo che sedimentassero memoria nel buio della macchinetta fotografica del computer e poi riguardarle di tanto in tanto e nel guardarle farmi prendere da una di queste perché quella in particolare chiede chiedeva scrittura quindi mettermela davanti agli occhi e scrivere davanti a quell'immagine naturalmente noi parliamo di una città dunque scatto visivo e scatto verbale che a volte si consociano si sposano a volte se ne vanno per strada completamente loro io vengo avete sentito siamo tutti diciamo di formazione critica io vengo dalla scuola calviniana anche se poi ci ho fatto un po' a pugni ma insomma il primo libro che io ho scritto anni fa è un libro dedicato a Italo Calvino e se voi ricordate il modo in cui Calvino interpreta il mito della medusa forse capirete lo schema con cui il metodo che ritorno a questa parola metodo perché io credo che sia un metodo dottor ti dirò che potrebbe essere applicabile anche a altre città ma solo a poche altre città per quello che mi riguarda ecco voi vi ricordate lì se la visione è diretta e frontale la medusa ti immobilizza se invece la visione viene fatta attraverso lo scudo quindi attraverso un riflesso uno può utilizzare l'energia della medusa per immobilizzare invece usare a proprio profitto il linguaggio ecco io sto parlando sto provando a raccontare una città che è super raccontata dove ci sono super fetazioni dove in realtà il racconto ha sepolto la realtà della città nella città in realtà non si sa quasi più nulla noi sappiamo solo che ci sono una serie di racconti tra virgolette mediatici letterari cinematografici alcuni funzionano altri no ma che non si sa più bene che rapporto abbiano con la fonte iniziale e allora per evitare di farmi immobilizzare ho capito ex post ho preso prelevato attraverso delle fotografie dei frammenti della città e me li sono guardati quindi in una dimensione in cui non era più la città ma il riflesso della città che mi permetteva la scrittura e dunque la scrittura era possibile non solo davanti il rapporto a quelle immagini che avevo fissato ma acquistava una possibilità di scorcio di rivelazione di poesie in prose io la chiamerei è un altro tema che mi sta a cuore quello dei poeti che scrivono in prosa uno dei punti di riferimento per me di una scrittura del genere sono le scorciatoie raccontine di Umberto Saba ma potremmo parlare dei silabari potremmo parlare delle città invisibili naturalmente e quindi questo guardare il riflesso di qualcosa che però è il riflesso di qualcosa che esiste quindi non è il riflesso di un riflesso è il riflesso di qualcosa che esiste mi permetteva di scrivere agevolmente mi permetteva di respirare dentro quell'immagine un'altra domanda e poi faccio un'altra domanda molto breve a tutti un'altra domanda che però vorrei fare a Silvio è questa che riguarda la copertina intanto perché è un'immagine molto significativa di un graffito che tu attribuisci senza dubbio a Bansky io avrei qualche dubbio però vorrei sapere come hai fatto ad attribuire questa foto e poi vorrei chiederti quante volte hai fatto appugni con lo scatto che avevi davanti quando dovevi descriverlo perché mi sembra che in tante fotografie in tanti scatti verbali l'approccio sia quello di fare una domanda cosa ci dice cosa mi sta raccontando questa cosa qua che testimonia la la difficoltà della materia con la quale ti sei confrontato beh la copertina farla vedere no? farla vedere meglio la copertina è uno dei muri che si trovano a piazza Gerolimia piazza Gerolimini oddio è diventata famosa nel mondo perché lì c'è la biblioteca di Gian Battista Vico e quella biblioteca è proprio la biblioteca che è stata spogliata come sapete di libri rari ed è uno degli scandali internazionali della bibliografia della bibio come la possiamo chiamare come voi biblioeconomia ma insomma delle rapine delle rapine culturali che avvengono che avvengono e in uno di questi muri compare questo questo grafito io non è che lo attribuisco si sa bene che sia di lui ma insomma è di Bansky in realtà lui è stato a Napoli per un po' di tempo e ne ha fatti due ha lasciato due tracce di sue una delle due è stata poi coperta si è perduta questa è rimasta e da un po' di tempo questa immagine comincia a essere tra virgolette dico insomma i napoletani non la conoscono ancora tanto bene però gli artisti vanno a rifarla cioè nella piazza ci sono già due o tre che hanno rifatto quell'immagine in altri in altri in altri angoli della piazza in realtà io credo che Bansky renda omaggio a un artista francese che molti anni prima ha fatto un'operazione a Napoli le cui tracce sono ancora presente che si chiama Ernest Pignone Ernest il quale prendeva delle immagini di Caravaggio e le buttava dentro i muri per cui spesso le metteva dentro i tombini in situazioni da cui potessero emergere venire fuori e cogliere gli occhi di chi stava passando e dunque che sia lui o non sia lui ma è lui poi magari se vuoi facciamo una identificazione però che sia lui o non sia lui non è tanto importante perché qui non è importante chi ha fatto quella cosa è l'appropriazione di un muro e qui c'è un tema che è molto forte nel libro mi hanno fatto notare dice ma tu in realtà racconti più delle pietre di Napoli che non delle persone di Napoli le persone quasi non ci sono dentro questo libro ed è vero e la mia idea è che le pietre ne sappano più delle persone cioè la differenza con la Firenze di cui parlavi tu in ondata di turisti e per la quale tu devi cercarti un verso di Dante per avere la percezione di cosa Firenze sia stata per fortuna Napoli sia pura città turistica oramai molto frequentata questa non non è ancora avvenuto i muri trasudano di cenere del tempo sono muri spesso vedete lì attorno a quel muro ci sono delle cose strane perché lì per esempio scusa se mi dai l'immagine vedete c'è un secchio per esempio il secchio non c'entra con la ci sono dei quadri che sono i quadri di un antiquario che espone lì accanto tra l'altro se voi dovesse capitare di andare a Piazza Giulio l'antiquario non c'è già più quindi vedete la fotografia diciamo candisce un momento e tra l'altro la cosa curiosa che non me ne ero accorto ma gli editori poi hanno deciso di mettere questa immagine in copertina c'è un quadro che riproduce Napoli in piccolo qui dentro quindi c'è quella che noi chiameremo una misena BIM c'è Napoli dentro Napoli e poi la cosa curiosa è che c'è un tubo un tubo del gas e poi c'è un numero di telefono quando voi andrete a guardare da vicino c'è un numero di telefono non me ne ero accorto e chi lo sa prima o poi lo chiamerò questo numero di telefono beh è anche una bella idea quella di telefonare alla copertina di un libro che potrebbe essere divertente allora abbiamo pochissimi minuti però una domanda secca un po' forse banale ma anche capitale la vorrei fare a tutti è questa siccome io sono convinto che la letteratura sia il miglior modo di raccontare un luogo tolte tutte le altre cose vorrei chiedere se anche voi siete convinti di questo se avreste voglia di raccontare un altro luogo che non avete ancora raccontato e terza domanda tra gli scrittori che avete frequentato amato letto studiato quale ha descritto meglio il luogo che descriveva o lo ha colto in maniera più precisa Stefano per un fatto di cortesia delicatezza ai confronti miei mi hai fatto tre domande se tu mi dai la parola mi prendo tutto il tempo posso rispondere per ultimo la prima non so se la letteratura diciamo sia il luogo migliore certo io sono dentro la letteratura e quindi è ovvio però se ti dicessi due titoli diciamo di due capitoli diversi del libro ti do una risposta e cioè i collage sono di Olbia e Annuoro con Giacometti a me i collage sono di Olbia 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 degli anni 70 lei non sapeva far l'amore e non poteva farci nulla è un distico migliore della quasi totalità dei poeti italiani che stampano adesso diciamo ma perché dico qui i collage sono utili perché i collage con questa brutta canzone un po' chiccio raccontano la cattiva modernità di una brutta città come Olbia che è una città miserabile sotto questo crudo e quindi lì mi sono serviti più i collage ma quando vado a Nuoro l'amatissima Nuoro e vedo una mostra meravigliosa su Giacometti Alman e i bronzetti nuragici lì capisco la chiave di volta del nichilismo diciamo nuorese perché Nuoro è una capitale europea in quel momento anzi migliore di Parigi perché Parigi ha Todorov e Nuoro grazie a Dio no e quindi da questo punto di vista l'umanoide postremo friabile di Giacometti che va da qualche parte dove andremo nulla è vicinissimo al bruzzetto nuragico che arriva da chissà dove cioè dal nulla e lì capisci perché Nuoro è la nuore di Grazia Deledda e di Salvatore Satta Grazia Deledda cioè quella scrittrice massacrata spesso dalla critica sarda che ne fa la rappresentante del codice barbaricino diciamo così studiato da Pigliaru mirabilmente ma è vero che c'è il codice barbaricino però la Deledda è la più grande scrittrice russa italiana perché se la Deledda voi battete la nocca sulla pagina sentite il vuoto sentite il nulla e Salvatore Satta ha per sempre fatto ingoiare dal cimitero di Nuoro diciamo così tutti i codici possibili questa piccola comunità risentita maligna cattiva eccetera diventa uno straordinario diciamo così libro che dialoga con Bacon dialoga con Beckett dialoga con Giacometti allora in questo senso la letteratura l'arte diventano nei casi straordinari in cui la Sardegna improvvisamente si rivela perché Nuoro è una città anche abbastanza brutta io volemizzo con Brandi che dice non c'è niente da vedere ma come c'è niente da vedere c'è proprio tutto da vedere perché c'è il nulla se uno vuole sapere come dire che cos'è il nulla deve andare a Nuoro vedi io forse all'altre due non rispondo perché già mi sono preso tutto il tempo sei stato bravissimo di nuovo grazie io sono d'accordo con Massimo che è un grande critico oltre che un bravissimo autore scrittore di queste cose sarde io penso addirittura più radicalmente forse che i luoghi oggi o diventano letteratura o rischiano di non esserci il problema direi che in questo processo di realizzazione della realtà che tutti i filosofi osservano e non solo i filosofi ma anche le persone di buon senso osservano direi che un modo di preservarsi della realtà è proprio quella di diventare letteratura lo ricordava anche prima Manguel cioè questo è già successo diciamo noi che cosa ci ricordiamo di Londra ognuno di noi si ricorda la sua io ricordo quella di Dickens esattamente come Alberto Manguel quasi quasi la conosco nei dettagli mi sembra di camminarci dentro eccetera allora questo si è verificato oggi proprio dal punto di vista antropologico filosofico letterario eccetera fino all'altro ieri un modo di raccontare i luoghi era quello giornalistico quando il giornalismo nella prima metà del settecento era un genere letterario cioè il giornalismo e ancora oggi devo dire a certi livelli lo è ma quando il giornalismo era un genere letterario che so io anche in Italia con Algarotti Rezzonico Labate Casti che viaggiava a Costantinopoli eccetera allora quello era un modo proprio di dare relazione di fare relazioni del mondo perché questo mondo davvero non si conosceva adesso che tutto è conosciuto e figurando solo il nulla sa cresce dice Leopardi forse è opportuno destinare questa cosa che è in qualche modo conosciuta ma diciamo in maniera finta fittizia fittiziamente conosciuta destinarla al vero della pagina letteraria torno un po' a quello che stavo dicendo prima necessariamente stiamo in il mondo in il mondo concreto in il mondo materiale ma per me sempre viaggiare non è stato un piacere così grande che leggere e di solito il confronto con la vera città il vero luogo materiale è molto molto più brutto e meno interessante che la scoperta di luogo in un libro ma io mi rifarei a quello che diceva Mangel prima cioè dare nome alle cose mi pare che uno sia letteratura o non sia letteratura quello lo decideremo dopo però credo che uno dei lavori che ci spetta è quello e soprattutto quando queste cose ci sfulgono quando queste cose sono allora quando uno riesce a me è capitato di recente di scrivere lo dico a te lei ci siamo appena visti quindi non so se devo darti dell'è o del tu mi è capitato di scoprire un luogo che compare anche qui in doppio scatto che è uno strano luogo che a volte si vede a volte no scompare ed è un luogo semicircolare con gli archi che sta sopra vicino alla certosa di San Martino sulla collina di Napoli e che io chiedevo ma voi lo sapete cos'è quella cosa e nessuno sapeva cos'era e a un certo punto ho pensato che quello fosse l'Alef di Napoli e ho scritto una favola dove c'erano due ragazzini che a un certo punto lo scoprono e ho ribaltato lo schema di Borges che lo mette giù io lo metto su e lì c'era appunto il convergere e soprattutto la possibilità di connettere due parti della città che sono l'alto e il basso della città che ahimè sono sempre invece non solo sconnesse ma messe l'una contro l'altra per ragioni sociali per ragioni tematiche per ragioni addirittura proprio razzistiche insomma quindi in quel caso per esempio adesso qualcuno che ha letto la favolina dice guarda l'Alef allora è capitato che abbia dato un nome a una cosa beh è notevole questo racconto di Silvio e chiuderei qua perché abbiamo raggiunto l'orario che ci eravamo prefissati ringrazio Silvio Perrella Alberto Manghello Giorgio Ficare Massimo Nofri e voi che ci avete ascoltato grazie grazie ti posso dare del tuo te lo manderò questo Ale di Napoli io guarda Grazie a tutti.